benvenuti ragazzi in questo nuovo video di cucinio 98 e oggi ragazzi siamo qui in un video un po particolare boni boni tutti si veramente mi sento un uomo completo oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video di overwatch ma cosa c'è di particolare ragazzi di particolare c'è che oggi andremo a presentare clim tornato un dissipatore ragazzi per pc portatili adesso io ovviamente l'ho già aperto ma vi farò vedere insomma il vario unboxing delle varie scenette insomma di unboxing qui in sovrimpressione o sottimpressione non so come cazzo si dice però avete capito c'è da dire ragazzi c'è da dire che sì ho cambiato inquadratura l'ho messa spostata voglio fare una semplice prova quindi ragazzi sì questa è una prova e c'è da dire anche che clim mi ha fornito questa tecnologia per provarla e devo essere sincero ragazzi io sono sincero con voi funziona e mi piace ero scettico ero veramente veramente scettico ma questo dissipatore dissipa davvero si dice così questo dissipatore ragazzi è alimentato tramite usb quindi lo attaccate all'usb del vostro computer e praticamente lui va dissipa e avete uno schermino per insomma tutte le informazioni riguardo alla temperatura quanto si sta sforzando cose così e avete anche due programmi ovvero manuale e automatico automatico vuol dire che praticamente imposta lui la temperatura e comanda lui diciamo quando cominciare a dissipare potentemente oppure no manuale invece tu decidi semplicemente la potenza con cui dissipare ragazzi il link per acquistarlo è in descrizione quindi se eventualmente vogliate fare un acquisto sensato io questo ve lo consiglio veramente vivamente perché raga funziona praticamente ragazzi andremo a fare delle partite su overwatch allora questo test chiamiamolo così non può essere affidabile perché ragazzi perché c'è il programma di registrazione video il programma di registrazione audio overwatch aperto e ovviamente anche battle ci sono un sacco di programmi aperti quindi fondamentalmente non può essere tanto attendibile la dissipazione comunque vediamo in alto a sinistra che sta già sui 70 ragazzi sui 70 roba che io se vado a vedere i miei video vecchi era 95 arrivava addirittura a 95 quindi insomma un cambiamento c'è allora adesso proviamo ad aumentarlo al massimo fa un po' di rumore si lo fa aumentato al massimo perché è inutile negarlo insomma lo fa e è così cioè nel senso è comunque un dissipatore ragazzi non è un canguro cioè perché comunque i canguri fanno rumore comunque in game con tutti i programmi aperti è fisso a 83 mi sembrerebbe a me poi ditemi magari se sbaglio io non gioco overwatch da tipo 7 millenni e sono morto malamente proprio ma comunque ragazzi questo è un video cioè è solo per avervi che cazzo di colpo mi son preso boia oh mio dio cioè tu sei un pazzo io non ho parole ragazzi la gente è malata la gente è malata comunque ragazzi vi stavo parlando ovviamente del dissipatore perché il video è riguardante questo i risultati ragazzi si vedono e ci sono ve lo assicuro ma perché perché una persona come te esiste io guardo lì perché prima stava lì perché una persona come questo bambino esiste comunque ragazzi vedo che la temperatura già sta salendo forse perché lo sto tenendo in modalità manuale energia al massimo proviamo a mettere in modalità automatica perché magari se si mette in modalità massima manuale si sforza troppo comunque ragazzi effettivamente il cambiamento c'è e non è poco ve lo assicuro adesso voi lo vedete un po' ambiguo si è vero però va sicuro che non è il vero cambiamento perché prima ragazzi giocavo sui 79 più o meno comunque massimo raggiunto raga era un 82 gradi giusto per farvi capire ecco adesso per esempio è tornato ai 90 gradi ecco forse l'unica cosa è che effettivamente non si capisce come gestisce la temperatura quello sì ad essere ingombrante ragazzi non è ingombrante mi sembra fatto di materiali comunque decenti sì ok di plastica però mi sembra comunque plastica come posso dire dura proviamo a rimetterlo adesso che è arrivato a 92 gradi il computer alla massima potenza diciamo così e vediamo se c'è un cambiamento o se effettivamente non c'è un cambiamento vedo già un grado giù vabbè sempre meglio di nulla ma comunque ragazzi voglio un cambiamento sostanziale perché davvero ragazzi ve lo giuro non me vorrei mai di cazzate io e se vi sto consigliando qualcosa non mi pagano ma perché comunque ragazzi vi dicevo il cambiamento c'è ve lo assicuro sostanziale va dai 5 ai 10 anche 15 gradi in meno ve lo assicuro in game ovviamente con tutti i programmi spenti e molto molto onestamente quindi ragazzi ve lo consiglio si se avete un portatile che scalda molto tipo il mio quando faccio un botto di roba si ve lo consiglio assolutamente si non avrei motivo diciamo di consigliarvi una un prodotto che non funziona perché essenzialmente io non ci guadagno nulla porca di quella e abbiamo perso ok va bene ma tanto l'abbiamo detto che il gameplay era solo per avere qualcosa sotto ve lo consiglio si ragazzi perché il cambiamento c'è ed è sostanziale anche se fossero 5 gradi ragazzi sono sempre 5 gradi e per il computer fa sempre sempre molto bene guardate già sta scendendo la temperatura dai 90 già agli 87 e ci sta ci sta ragazzi vi dicevo vi consiglio l'acquisto si spesso ragazzi ci sono prezzi scontati su amazon per clean tornado quindi magari aspettate un prezzo scontato e così avete un prodotto che comunque ragazzi ve lo assicuro e ve lo assicuro funziona perché a me funziona ad un prezzo magari agibile per tutti ovviamente ragazzi questo video non se lo guarderà nessuno probabilmente perché essenzialmente sappiamo che youtube sta facendo veramente veramente schifo ragazzi un tipo di video come il pack opening real che prima mi ha fatto 1200 anzi 1300 quasi visual e circa 130 like adesso mi fa 250 visual forse quindi potete un attimo immaginare cosa sta succedendo su youtube quindi ragazzi io ringrazio davvero davvero tanto clean per questo dissipatore perché è una cosa veramente eccezionale per il mio pc c'è da dire anche che il pc è acceso da tipo due ore non sto scherzando ragazzi e fino adesso ho giocato a rainbow quindi comunque non era un gioco veramente leggerissimo prima ragazzi di chiudere il video vi voglio avvertire che live non sono più il lunedì bensì sono spostate a sabato pomeriggio perché ragazzi come doveste sapere io lavoro durante tutta la settimana quindi mi è un po' più difficile no mi è proprio impossibile fare le live di sera ma comunque ragazzi per questo video può essere tutto mi raccomando lasciate un like commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto in descrizione avete instant gaming per comprare overwatch e molti molti veramente moltissimi altri giochi ad un prezzo veramente scontatissimo anche del 70% avete il link per comprare i codici di professor rock ad un prezzo veramente ragazzi stracciatissimo e regalato io ve lo consiglio veramente vivamente sia al clean tornado che professor rock avete instagram gruppo telegram e cazzi vari per rimanere ragazzi aggiornati noi ci vediamo direttamente al prossimo video qui da coccinio98 è tutto noi ci vediamo direttamente venerdì con un nuovo video mi devo le va sta cosa dalla fronte perché se no mi va anche ancora in albraccio bella regà iscriviti al canale Grazie a tutti.